La trasformazione dell'impianto di compostaggio in centro di pretrattamento per eliminare i cattivi odori in uno dei borghi più belli d'Italia con l'arrivo di 6 milioni di euro di fondi, quelli destinati all'impianto di Maiolati Spontini. È stato il punto centrale discusso in mattinata a Corinaldo nell'incontro tra la giunta regionale e quella comunale. Possiamo trarne dei risultati positivi che vanno verso la soluzione del nostro impianto di compostaggio nella trasformazione in un impianto di pretrattamento risolvendo i problemi che naturalmente Corinaldo da un po' da tempo fa presente nei vari tavoli, nei vari tavoli provinciali e regionali che sono appunto i cattivi odori. Un passaggio che riafferma la vocazione turistica anche di Corinaldo. Assolutamente sì, un altro aspetto discusso lungo questa mattina con la regione. Corinaldo è in linea con quella che è la valorizzazione, la promozione che la regione sta portando avanti del nostro territorio. Un paese bandiera arancione che punta sull'agricoltura, sull'ambiente e sul turismo. Credo che sia qui che si possano costruire dei progetti che non sono più progetti pilota ma sono progetti strutturali. Poi il rifacimento del ponte sul Cesano. Attualmente abbiamo una soluzione provvisoria, un ponte bel in ferro. Lo abbiamo detto al momento dell'apertura, della riapertura della viabilità a questo ponte strategico, anche per il settore turistico perché collega due comuni, Corinaldo e Mondavio entrambi inseriti nel circuito dei borghi più belli d'Italia, quindi un ponte definitivo. Infine l'idea per Corinaldo, come per gli altri piccoli comuni, con l'ulteriore chiusura di diversi reparti di ostetricia della residenza di nascita, ovvero la possibilità di scrivere sul documento di identità il comune di appartenenza al posto di quello dell'ospedale. Dovrebbe essere avviato l'iter legislativo. Stiamo facendo un'iniziativa di carattere legislativo perché sia concesso, pur nascendo agli esi, di poter scrivere sul certificato di nascita nato a Fabriano.